ciao ragazzi ho trovato una bella app da mostrarvi e si chiama rec my screen questa qua clicchi come ho fatto io e ti esce questa schermata da questa schermata io posso girare un video cioè registrare sullo schermo come sto facendo adesso ma sto usando un'altra app adesso non sto usando questa vuole fare degli screenshot tramite l'icona della macchina fotografica premendo qua così come vede c'è scritto inizierà ad acquisire tutto ciò che vi ho già dato al schermo da qui posso vedere gli gli screenshot che ho fatto come vedi ci sta una galleria dove di video e immagini video questo è un video che ho fatto io non te lo faccio vedere per privacy immagini sono gli screenshot che ho fatto tramite questa basta semplicemente cliccare qua sopra questa è una pubblicità purtroppo bisogna assorbirla perché il programma è gratuito fai avvia ti fa lo screenshot di quello che ci sta con lo schermo vedi ecco questo screenshot salvato e la trovi nella galleria dove abbiamo visto prima premi su immagini come vedi ci sta l'ultimo screenshot che abbiamo fatto che questo ti dice anche la data e l'ora del salvataggio indietro chiudiamo ecco qua dalle impostazioni possiamo decidere la risoluzione dello schermo io ce l'ho al massimo possiamo anche abbassare decidere di decidere di registrare con il microfono del telefono infatti basta spostare questa l'ora dell'ora del lino e di registrata oppure non registrerà così non registra io lo tengo su registra show touch è il il touch quando metto il dito sullo schermo si vede il tocco altrimenti non si vede se il video ti è stato utile se ti è piaciuto se ti fa piacere metti mi piace condividi il video con i tuoi amici su facebook e iscriviti al canale altrimenti non fa niente però mi farebbe piacere che tu ti iscrivessi così puoi vedere tutti i video che io che io metto su youtube sul canale su youtube sul canale ciao e al prossimo video